La Toscana intera si è stretta intorno alla famiglia di Pierfrancesco Dalleluche, viareggino comandante dallo scorso anno della Capitaneria di Porto, di Porto Santo Stefano, tragicamente scomparso in un drammatico incidente domenica scorsa. Stava rientrando nella sua viareggio nel primo pomeriggio, quando per dinamiche ancora da chiarire, si è schiantato contro il cordolo spartitraffico del casello A12 di Rosignano Marittimo. Per lui non c'è stato niente da fare e neanche per il suo cane. Tantissime persone sono accorse alla chiesa di Don Bosco, al Marco Polo, per l'ultimo saluto al giovane tenente di Vascello, molto conosciuto nella zona, proprio lì risiedeva la famiglia. Un abbraccio affettuoso ai parenti e alla moglie, rimasta sola, con un figlio di 7 anni e un secondo bambino in arrivo. Presenti alla cerimonia solenne, gli stati maggiori provinciali di Lucca e Grosseto e regionali della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, ma anche dei carabinieri, della Polizia di Stato e delle rispettive prefetture. A rendere omaggio allo sfortunato comandante, gli amministratori della Versilia e del resto della provincia, in testa il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, e il senatore Massimo Mallegni, e gli amministratori del Monte Argentario, dove oggi è stato proclamato lutto cittadino. Nei giorni scorsi è arrivato anche un messaggio di cordoglio, attraverso un tweet, del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.